Durante il Forum Internazionale dei Giovani, che si è svolto in Vaticano nella Sala Clementina, Papa Francesco ha annunciato nel suo discorso ai partecipanti il tema della prossima giornata mondiale della gioventù, in programma nel 2022 in Portogallo, a Lisbona. Maria si alzò e andò in fretta. Come sapete, ha detto il Papa ai Giovani, il cammino di preparazione al Sinodo del 2018 ha coinciso in gran parte con il percorso verso la GMG di Panama, che ha avuto luogo soltanto tre mesi dopo. Nel mio messaggio ai giovani del 2017 ho auspicato che ci fosse una grande sintonia tra queste due vie, affidando questa intenzione alla potente intercessione di Maria. Ebbene, la prossima edizione internazionale della GMG sarà a Lisbona nel 2022. Per questa tappa del pellegrinaggio intercontinentale dei giovani ho scelto come tema Maria si alzò e andò in fretta. Per i due anni precedenti, ha continuato nel suo discorso il Papa, vi invito a meditare sui brani giovani, dico a te alzati e alzati, ti costituisco testimone delle cose che hai visto. Con ciò desidero anche questa volta che ci sia una grande sintonia tra il percorso verso la GMG di Lisbona e il cammino post-sinodale. Non ignorate la voce di Dio che vi spinge ad alzarvi e seguire le strade che Lui ha preparato per voi. Come Maria ed insieme a lei, siate ogni giorno i portatori della sua gioia e del suo amore. Maria si alzò e andò in fretta, ha concluso il Papa, e di fretta andò a visitare sua cugina, sempre pronti, sempre di fretta, ma non ansiosi.